ciao a tutti ragazzi oggi monto un motore sotto il ciao rosa il mio ciao rosa che sta è sprovvisto di motore al momento sta motorini senza motore motori volanti nel garage quindi ho preso un polini che ha fatto dieci ore circa sempre in off road senza filtro sempre terra rossa fango senza filtro ha viaggiato sempre lo smontato che era marciante adesso lo smonterò per vedere cosa c'è dentro e cosa si è verificato quindi vedremo un motore e poi lo monterò con gli stessi componenti vediamo il video questo ciao rosa che è stato pulito non lavato ho montato una bobina dovremmo mettere la pipetta e vi faccio vedere il motore la puntina volano originale spinotto 10 carter speed engine stuccato milioni di volte perché ce l'ho da una vita questo qua è il primo carter non originale che ho comprato ci avrà 25 30 anni questo è il carburatore che adesso vedremo ancora non l'ho pulito eccolo qua tutto sporco che è stata previsionata rifatta la valvolina perché sempre ogni volta che la smonto li rifaccia la valvola originale non tornita niente polini queste sono le fasce originali i fermi da bianrulli e tutta la videria e questo cilindro ragazzi adesso ve lo faccio vedere quindi questa è una guarnizione che ho rifatto per rimontare il pistone non solo ha viaggiato con polvere in aspirazione terra rossa ha viaggiato anche con ruggine nel serbatoio peccato che non vi ho fatto vedere la candela com'era però si vede forse è color ruggine la candela è nuova però vedete quel rosso come uno strato che copre la ceramica risolante e anche dentro sulla parete qui della filettatura interna quello sporco e ruggine quindi questo motore è stato consumato dalla polvere insomma dalla terra silicio e dalla ruggine nella miscela però nonostante tutto non ha grippature vediamo il pistone adesso lo pulisco tolgo l'olio perché l'ho lavato tutto allora il pistone è lucidato non ci sono più le micro regature inoltre qui sulla fascia superiore sulla corona ci sono dei solchi sembra consumato guardate solo sulla parte superiore c'era pochissimo residuo di combustione qui nella sede delle fasce l'ho pulito non proprio fissandomi però il pistone non ha nessuna grippatura questo fu pulito solo di travasi e fatto leggermente lo scarico tutto standard è lucidato praticamente tranne solo in determinate zone tipo qui dal video non si apprezza però c'è ancora un po di ligatura dell'originale praticamente si è lucidato ragazzi e questo è il cilindro che anche questo qui non presenta grippature però si è consumato nella zona di azione delle fasce lo pulisco dall'olio vedete qui si è creato nel dentino della fascia superiore si sente proprio il consumo il dentino ma non sto lì a misurare perché non mi interessa si vede e si vede anche sotto vedete sotto fa un altro colore la fascia inferiore il limite della fascia inferiore sotto lo scarico vedete vediamo da qui ecco qui si nota proprio il consumo la terra ha fatto il suo lavoro insomma però questo andava si sentiva che aveva perso un po di prestazioni ma andava lo stesso adesso vediamo inseriamo la fascia vediamo che lavoro troviamo qui questa è la fascia superiore vediamo qui non ce n'è più farci ci sono millimetri vediamo quanti millimetri sono questo praticamente non ha più compressione ragazzi guardate sono minimo due millimetri e mezzo due millimetri due millimetri ragazzi però mettendolo sotto dove c'è più consumo aumenta ancora di più proviamo montiamolo così vediamo cosa succede poi al massimo prenderò una serie di fascia di fascia e gliele montola per adesso voglio fare questo esperimento montarlo così quindi procediamo che volevo dire lo usate su strada senza filtro va bene pure però offroad negativo al massimo ci vuole il filtro vedete la parte calda dello scarico me l'ha graffiata la corona quindi già da qui si è usurato dal pistone si è lucidato tutto il resto la parte dei travasi no non ha graffiato però avete visto le fasce sono fuori tolleranza al massimo secondo me comunque partirà vediamo un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 Adesso vediamo il carburatore che non ho ancora pulito perché non ricordo nemmeno che getto c'è. Questo era montato a variatore prima. Quindi non lo so adesso guardate cosa c'era dentro. Vabbè parecchia è andata già persa vedete ruggine miscela con la ruggine quindi il motore si è mangiato tranquillamente la ruggine. Getto 75 adesso non farò altro che pulirlo e lasciare sempre lo stesso oggetto. Guardate la terra ragazzi. Comunque adesso puliremo tutto e montiamo tutto. Ho togliato tutto il video perché è inutile che vi faccio vedere ogni volta i montaggi del motore e queste cose qua. Ho completato il motore con le fasce larghe. Già devo dire che sono sceso di getto perché ho fatto già delle prove. Il motorino va male. Vi spiegherò fra poco perché. Comunque dall' fm modello che viene alto insomma questa qui questa marmitta qui sono dovuto scendere di getto perché con questa e col variatore portavo il 75. Adesso abbiamo un 68. Getto 68 con questa marmitta che non è il massimo della vita però è l'unica marmitta che c'avevo disponibile tranne quelle originali. Morale della favola il motorino non va bene non va bene perché non ha proprio compressione 0 parte pure adesso vi faccio vedere però a pedali e un'impresa parte col trapano perché gli fai venire il giudizio lo fai girare veloce quindi lui parte vi faccio vedere che il lavoro fa. Cioè una volta che parte mantiene anche il minimo va decentemente cioè è decompresso però viaggia ma a pedali non ci si riesce a metterlo in moto a meno che non vi lanciate da una discesa richidissima. Quindi adesso smonterò tutto motore metterò le fasce nuove. Proviamo un'altra accensione che è caldo vediamo giusto per vedere. A caldo parte bene come avete visto però quando è freddo non ne vuole sapere caldo insomma caldiccio calducchio. Ecco qua adesso getto 68 13 13 albero anticipato non ricordo di quanto cilindro stock e marmita faco serpentina serpentone come si chiama. Puleggia, trasmissione a puleggia, mo gli faremo la revisione al gruppo termico cioè gli metterò le fasce nuove perché così è improponibile non lo metto in moto. Motorino smembrato e motore anche qui ci sono le fasce vecchie ancora e qui ci sono le fasce nuove sono della caber 43 per uno e mezzo di spessore. Le fasce per i polini insomma eccole qua e adesso vi faccio vedere la differenza nel cilindro così montato inserite solo nel cilindro. Toglierò le fasce da qui e riponterò le nuove fasce qui stesso va bene? Ecco qua ragazzi fascia vecchia guardate 2 mm l'altra fascia vecchia 2 mm e mezzo e le fasce nuove vediamo come vanno. Perfetto ragazzi guardate di lusso non le rifinisco nemmeno guarda tanto il motore è mio faccio l'esperimento tanto non succederà niente perché ormai è tutto rodato pistone cilindro. Il tempo di farsi la casa le fasce nuove poi questo verrà usato su strada e durerà a vita ecco qua la fascia nuova vedete perfetto montiamo tutto. Raga abbiamo rimontato tutto con le fasce nuove adesso provo il motorino a freddo vediamo. Di lusso Di lusso ragazzi di lusso 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 Di lusso